Benvenuti al Collo degli Ulivi La cucina del nostro ristorante è soprattutto rustica Dove troverete ricchi antipasti della casa Ampie scelte di privi piatti Una vasta scelta di secondi alla griglia Come la nostra griglietta di carne servita sulla pietra calda Fiorentine, angusti irlandese, filetti Per concludere una vasta gamma di dessert fatti in casa Uno dei nostri piatti che abbiamo preparato è lo Chateaubriane Chateaubriane insieme alle grigliate di carne È il piatto preferito della nostra clientela Vi aspettiamo al Collo degli Ulivi Grazie a tutti